Sì, c'è anche una certa serialità, un certo livello di organizzazione che indica che non sono certo le prime armi. Così, il procuratore capo di Vicenza, Antonino Cappelleri, ha descritto la gang sgominata dai carabinieri del comando provinciale Berico, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Valdagno, Pede Montana Vicentina, che da tempo imperversava nel Veneto, prendendo di mira i bancomat fatti esplodere con l'ordigno definito gergalmente marmotta dagli effetti garantiti. La tecnologia, nel senso di telecamere di sorveglianza, ha fornito una consistente mano agli inquirenti, anche se il procuratore Cappelleri preferisce sempre sottolineare la prontezza del fiuto investigativo. I militari dell'arma sono dovuti emigrare nel Foggiano, in Puglia, nella località da cui provenivano i membri della banda, per ricostruire il modus operandi di questi trasfertisti del crimine. Dopo lo spostamento in aereo o con auto a noleggio, la combricola rubava un'altra vettura per compiere i colpi. Sì, certamente non solo noi, perché probabilmente altri territori possono essere stati interessati dalle stesse cose. Qui, in particolare, l'esito investigativo è stato brillante, ha ricostruito in maniera veloce gli avvenimenti attraverso la sinergia di una serie di accertamenti tecnici incrociati con accertamenti di tipo tradizionale.